Per fare questo gioco abbiamo bisogno di un mazzo assolutamente normale da cui andiamo a scegliere una carta a caso, ad esempio questa, il 2 di fiori in questo caso che andiamo a mettere così a faccia in giù faccio vedere che veramente il 2 di fiori, eccolo qua, è l'unica carta a faccia in giù ora andiamo a scegliere un altro 2, ad esempio vediamo, il 2 di cuori, eccolo qua, perfetto il 2 di cuori che andiamo a mettere in questo modo alla cima basta però un attimo che il 2 di cuori si trasforma nel 2 di fiori e dove prima c'era il 2 di fiori in mezzo al mazzo ora non potrà che esserci il 2 di fiori, no scusate ma allora se il 2 di fiori è qua, vuol dire che qua c'è sempre stato il 2 di cuori grazie